Tre giorni per festeggiare il San Valentino a Pescara, soprattutto nella zona di Pescara Vecchia, a Cristian Sum, avete messo in cantiere diverse iniziative e avete soprattutto coinvolto diversi esercenti. Certamente, come l'anno scorso e sull'onda del successo dell'anno scorso, quest'anno abbiamo riproposto il contest Bacia Selfie Vola, ossia ci si fa un selfie baciando la persona amata, il proprio lui o la propria lei, con lo sfondo di un bacio famoso di Alfred Einstead, poi si sarà pubblicato sulla pagina di Pescara Vecchia, pagina Facebook, e il bacio che riceverà più like viaggerà, grazie all'agenzia Venture di Pescara, che ci ha dato questa possibilità, in una capitale europea scelta. Una iniziativa simpatica, originale, per rendere originale il giorno della festa degli innamorati. Certamente, per noi le coppie sono davvero molto importanti, sono la maggior parte dei nostri clienti che vengono a San Valentino, gli abbiamo voluto regalare una cosa importante, quindi un viaggio in una capitale a scelta. Pescara Vecchia, che vuole restare, vuole continuare ad essere un po' il centro di Pescara, per quanto riguarda il divertimento e non solo. Certamente, noi come Consorzio Pescara Vecchia puntiamo a far sì che non sia semplicemente Pescara Vecchia una zona a sé, ma che sia contestualizzata all'interno di una città policentrica, che noi immaginiamo, quindi che viva e condivida momenti con la riviera e con altre zone della Pescara, perché insomma più siamo e più riusciamo ad attrarre e a portare gente a pescare, più tutti siamo meglio. Grazie.